Allora, questo è il terzo anno che vengo a questo giamborì e devo dire la verità, non è che i discorsi siano cambiati tantissimo, anzi, sono avanzati in termini di temi, argomenti, c'è stata chiaramente una maturazione delle cose dette, però restano cose dette, cose fatte, secondo me, molto poche, molto, molto poche. C'è una statistica che è uscita un paio di settimane fa sul Wall Street Journal che riporta il numero di anni in cui un'applicazione ha raggiunto 15 milioni di utenti. Allora, per quanto riguarda il telefono, ci sono voluti 75 anni per arrivare a 15 milioni di utenti. La radio 38 anni, la televisione 13 anni, internet 4 anni, la rete digitale italiana in fibra, ma vedremo più avanti? Da quando ho preso io servizio, tre anni sono già passati, il tormentone sulla rete di Telecom, per esempio, non so se loro ricordano, io purtroppo sì, ma vabbè che mi pagano per ricordare queste cose, però vendiamo, non vendiamo, vendiamo i brasiliani, no, compriamo dai brasiliani, poi gli argentini, non si capiva più niente. Bene, forse adesso le cose cambiano perché il governo è sceso in campo. Io non sono ferocemente contrario agli interventi del governo. Innanzitutto, nonostante sia un'autorità indipendente, facciamo parte più del settore pubblico, chiaramente, che non del settore privato. E quindi la discesa in campo del governo può essere vista, può essere vista come positiva. Certo che non è un, come posso dire, un fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, nel senso che per fare le cose, alla fin della fiera, o arriva il governo, o resta tutto lì. E questo mi pare che non sia una bella conclusione, ma è una conclusione, come posso dire, sentimentale, non operativa. Il governo si è mosso e le cose hanno cominciato apparentemente a muoversi. Quindi, il settore adesso dovrebbe essere preso, forse, tra le due morse della tenaglia, politica da un lato, politica industriale, politica governativa, e regolamentazione dall'altra. Tutte e due bracci di una politica pubblica. Allora, il governo, vedremo cosa farà e gli auguriamo buona fortuna. Io posso parlare di quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo partiti da un'indagine conoscitiva fatta insieme ai colleghi dell'Antitrust, che è terminata nel dicembre dell'anno scorso. La conclusione principale, o forse politicamente più forte, era che non si sarebbe arrivati da nessuna parte senza un piano nazionale, un piano che chiamava in campo il governo, e questo piano strategico nazionale, che poi è stato chiamato strategia Bull, che ovviamente riconosce i ruoli di tutti gli attori di questa avventura e soprattutto sottolinea il collegamento non solo politico ma anche operativo con l'agenda digitale europea. Diciamo, riconosce l'importanza di alcune forme meno tradizionali delle altre, come le private-public partnerships, apre la porta a joint ventures, coinvestimenti e così via. Allora, noi come autorità da soli, insomma, mentre la prima era un'attività in coabitazione con Antitrust, abbiamo oltre che declinato, come si suol dire adesso, i dettagli operativi delle forme di cooperazione che ho detto prima, le private partnership, eccetera, abbiamo ovviamente, ci siamo occupati più di regolamentazione e in questo senso abbiamo delineato la possibilità di condivisione di cabine, la realizzazione del multi-operator vectoring, che sono forme che permettono, in una situazione in cui apparentemente non vi è abbastanza slancio da parte del singolo privato, una condivisione di attività con altri. Oh, le conclusioni a cui siamo arrivati sono riecheggiate, e poi, e questo ovviamente ci fa piacere, in uno studio che Vic ha fatto per conto di Ofcom, che sottolinea alcune cose introdotte da noi e altre cose invece relativamente nuove. La prima che devo sottolineare, anche se lascio a tutti poi il crederci o meno, secondo questo lavoro l'investimento pubblico non è determinante, cioè l'investimento pubblico è una componente che può entrare, così come può non entrare nell'avventura della costruzione dell'economia digitale. Un altro elemento che noi affrontavamo, ma da un'angolazione levemente diversa, è la declinazione dell'indice, il cosiddetto indice DESI, che riporta la Commissione europea ogni, mi pare, sei mesi. L'Italia, nell'ultima classifica, è venticinquesima su ventotto, quindi peggio di noi stanno i greci, i bulgari e i romeni. Ora, per carità, bisogna riconoscere che molto è stato fatto in questo periodo, però la durezza del dato dovrebbe avere agio sulle valutazioni ottimistiche di alcuni. Uno dei componenti di questa debacle è sicuramente la domanda privata, cioè la domanda privata sembra essere molto molto molle in Italia. E qui, voglio dire, ci sono dai teorici del marketing in giù che possono analizzare il perché. Però, diciamo, è una componente assolutamente fondamentale. Cioè, se vogliamo, la critica che facevo prima alla cosiddetta imprenditoria privata, beh, deve tenere anche conto del fatto che produrre qualcosa che il pubblico sembra non desiderare più di tanto, ecco, non è un dovere morale. L'imprenditore privato dovrebbe cercare di massimizzare il profitto, dovrebbe essere quello il suo obiettivo principale, finché il pubblico non si convince. E ricordo che tra coloro che hanno a disposizione banda ultralarga, la media europea di take-up rate, cioè di gente che ce l'ha a disposizione e lo usa e lo compra, è il 30%, la media italiana è l'8%, che è estremamente bassa. Allora, che cosa possiamo fare? Beh, l'intervento risolutore sembra essere stato, almeno per l'accelerazione nell'arte principale degli italiani, cioè la discussione, ma anche per una serie di interventi concreti di cui abbiamo parlato prima, è il governo. Ma, ecco, io credo che il governo possa fare un'altra cosa che ha delle esternalità positive molto forti, e cioè una digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. Questo perché? Beh, innanzitutto perché la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica cambia il modo di ragionare e cambia i percorsi amministrativo-burocratici dell'amministrazione stessa. Se io costruisco un backbone informatico dietro il procedere dell'amministrazione pubblica, l'amministrazione pubblica non può che seguire. E questo forse spiega perché fino adesso la resistenza è stata altissima. Ecco, io credo che il governo, che dovrebbe avere dei poteri, immagino, assoluti sulla sua amministrazione, dovrebbe partire da questo. Dovrebbe partire da questo perché una digitalizzazione poi genera, oltre a questo piccolo beneficio di una revisione logica dei processi amministrativi, ecco, genera come beneficio collaterale anche delle situazioni di potenziale domanda molto forti da parte dei cittadini. banalmente pensiamo a tutta l'interfaccia tra il cittadino e l'amministrazione pubblica della quale sicuramente una parte non potrà che rimanere diciamo non analogica ma fisica, cioè proprio il contatto eye to eye con l'amministratore, ma una parte può essere sicuramente informatizzata. pensiamo a una cosa che per me che sto andando avanti negli anni a una velocità che mi sembra superiore a quella di tutti gli altri, ha un particolare interesse, la telemedicina. La telemedicina ha una potenzialità fortissima in termini sia di risparmio di risorse della sanità che invece tende a essere per vari motivi sempre più costosa, ma anche in termini di sicurezza del cittadino. Ecco, io credo che la telemedicina possa essere considerata importantissima di per sé, ma anche come generatore di domanda. Dopodiché è chiaro che diciamo molte affermazioni dal lato Ministero della Sanità, ASL e così via, sottolineano come le ASL siano sempre più informatizzate, ma attenzione, loro parlano di informatizzazione dell'amministrazione dell'ASL, che sicuramente è una buona cosa, la telemedicina è sicuramente tutt'altro, e teniamo presente che la telemedicina non può funzionare senza la banda ultralarga, i tempi di reazione devono essere istantanei. Ecco, quindi in questo senso l'intervento del governo può essere rivoluzionario, può essere rivoluzionario perché riqualifica e rimodula la domanda, rimodulando la domanda di servizi che viaggiano via banda ultralarga, di fatto determina l'installazione della banda ultralarga. Il cartello là sopra dice che il mio tempo è finito, sono molto contento di aver finito nei tempi previsti e quindi permettere a tutti loro di accedere a un meritato pasto. Grazie. Grazie.